Ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria qui a Lampedusa, due ambulanze di ultima generazione con l'aspiratore chirurgico e con un impianto completo di gas medicali che hanno visto l'azienda a sostenere un investimento di 120.000 euro. La prossima settimana il presidio sarà arricchito di un mammografo che sostituisce quello vecchio obsoleto e a settembre un ulteriore potenziamento con il POCT che consentirà al pronto soccorso l'effettuazione di esami di diagnostica di laboratorio in tempo reale. A settembre, 13 giorni dall'8 al 21 settembre, impegnati per la lotta al randaggismo saranno effettuate le esterilizzazioni dei cani e sono previsti dei camper itineranti per impiantare i microchip, sempre portando la sanità tra la gente attraverso quello che ormai è un meccanismo consolidato di sanità itinerante.